In queste ore sono stati annunciati milioni di euro per le strade al collasso, interventi da parte della regione Campania con euro messi sul tavolo per tante strade, anche del Salernitano. Fra le opere più importanti saltano all'occhio quella di Nocera, dove arriva la maxi rotatoria, ma anche nel Cilento, ad Aquara, dove finalmente iniziano i lavori alla via interrotta dal Masso. Ad intervenire per Battipaglia è Vincenzo Inverso, hashtag per un nuovo inizio, che sulla pagina Facebook se è di Battipaglia è il vero, ha postato chiedendo in maniera ironica. E per Battipaglia? Avete notizie? Quanti soldi l'amministrazione francese è riuscita ad intercettare? In pratica ha voluto rimarcare come varie strade sono state oggetto di investimenti di riqualificazione, tranne quelle battipagliesi. Si attende una risposta da parte degli amministratori.